GF VIP, Orana rivela che Daniele vuole le reality, io non lo faccio andare. Daniele Dal Moro continua ad essere al centro dell'attenzione al grande fratello VIP 7. Dopo l'ultima puntata serale che lo ha visto protagonista di un acceso confronto scontro con la sua ex Martina Nasoni. Daniele ha perso le staffe nei confronti della ragazza tornata in casa per viversi la sua esperienza e cercare anche di recuperare il legame con lo stesso Daniele. Una situazione che avrebbe messo ad orissima prova Daniele al punto che, Oriana, ha svelato che sarebbe pronto a lasciare il cast delle reality show. Nel dettaglio, Daniele e la sua ex Martina si sono ritrovati ai ferri corti nel corso dell'ultima puntata serale delle reality show. Tra i due sono volate parole grosse e, come se non bastasse, il giovane concorrente è stato bacchettato anche da Alfonso Signorini. Per alcune uscite poco carine nei confronti della sua ex. Subito dopo la puntata serale di questa settimana del GF VIP, Daniele ha perso le staffe anche in confessionale, l'ex tronista ha avuto un durissimo sfogo contro gli autori. Al punto che le sue urla si sono sentite anche nel resto della casa e sono state ascoltate dagli altri concorrenti. Insomma, una situazione non facile per Daniele. In queste ore, anche Oriana ha confessato che il suo compagno di gioco starebbe valutando la possibilità di uscire di scena e abbandonare il cast delle reality show. Ad un mese e mezzo dalla finale di questa edizione. Non farmi passare per quello che ti tratta male. Dice che non li va, ha raccontato Oriana ad Alberti, riportando il pensiero di Daniele che Nelle ultime ore, ha preferito isolarsi dal resto del gruppo e stare per conto suo. Sì amore, ma non va tanto, ha risposto Alberto che si è detto convinto del fatto che Alla fine, l'ex tronista di Uomini e Donne non molerà la presa e quindi non uscirà di scena dal cast di questa settima edizione. Io non lo faccio andare ovviamente, ha subito esclamato Oriana che, in queste ultime settimane. Ha costruito un legame particolarmente forte e intenso con Daniele. Quale sarà a questo punto la reazione e la decisione finale dell'ex tronista? Andrà avanti lo stesso e porterà a termine questa avventura nonostante le ultime decissitudini nate con Martino Nasoni, oppure emullerà la presa. I fan del reality show sperano di poterlo vedere in gara fino alla fine di questa settima stagione. Dove è stato indubbiamente uno dei protagonisti più amati al tempo stesso chiacchierati dal pubblico del GF VIP. Să o admire nave spațiale de pe Andromeda, ăsta-i telul, îl execuți ca pe Maria Antoaneta. D'aia de când mă știu textul-i plin de dude, dumere tante printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri puite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un...